Almeno un cantiere lungo la statale 16 è stato riaperto, problemi alla viabilità soprattutto nella bella stagione hanno condizionato il regolare flusso del traffico. Dunque il cantiere di Rocca San Giovanni, località Cavalluccio, che ha riguardato consolidamento del ponte, riaprirà ad ottobre. L'altro di Foce della Rocca resta però aperto su due, almeno uno per adesso è stato concluso parzialmente. Ne parliamo con il sindaco di Rocca San Giovanni, Fabio Caravaggio. Lavori al ponte Cavalluccio, un'opera da circa un milione e mezzo di euro. La prima parte delle opere sono concluse con il consolidamento della struttura e con la tenuta storica dei mattoni che conservano le caratteristiche originarie del ponte stesso e la messa in sicurezza al contempo. La stagione si va alle porte, sono molti gli eventi sportivi che ci attendono, tra cui il nuovo passaggio del Giro d'Italia e quindi si è deciso di sospendere per poi ripartire nel mese di settembre. L'amministrazione comunale sia sul ponte Cavalluccio che su quello della Foce ha da sempre sollecitato anche nella vostra emittente e quindi questo è un buon risultato che ci aiuta a favorire l'afflusso dei turisti. Tutto questo mentre il ponte alla località Foce continua nei ritardi? Continuano nei ritardi ma continuano anche le sollecitazioni da parte dell'amministrazione. Stamattina abbiamo di nuovo risentito la ditta. L'impalcato ha quasi raggiunto lo stesso dislivello e quindi continuiamo con i solleciti nell'attesa della conclusione. Grazie.